Anche per quest'anno l'amministrazione comunale di Cavriglia, in collaborazione con COD e DOGIO Valdarno, organizza una serie di incontri rivolte ai giovani ed incentrati sulla programmazione informatica. Le lezioni si terranno presso l'incubatore di imprese a bomba a partire da sabato 23 gennaio alle ore 15. Un corso importante che riguarda l'innovazione tecnologica, giusto per non lasciare i ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni in una fase praticamente di lassismo per quello che riguarda l'informatica. La sua seconda edizione si chiama COD e DOGIO. COD e DOGIO non è altro che un corso destinato ai ragazzi che prevede l'insegnamento dell'informatica. In che termini? In termini della programmazione, quindi delle applicazioni, ma anche del coding, che è la BC dell'informatica. Nelle esperienze precedenti i ragazzi hanno potuto creare dei videogiochi, delle animazioni e hanno potuto lavorare anche con una stampante 3D che si trova appunto nell'aula informatica del centro servizi. Gli incontri saranno 10 in tutto ed avranno cadenza mensile. Gli incontri sono previsti un sabato al mese per 10 mesi, quindi esclusi i mesi estivi, nel pomeriggio. Cominceranno questo sabato 23 gennaio dalle 15. e si...